E tu lo sapevi? Gli scienziati spesso lavorano su sintesi e scoperte molecolari che possono avere applicazioni innovative in una vasta gamma di settori, tra cui farmaceutica, materiali avanzati, elettronica e altro ancora. L'ultima scoperta di un elemento chimico risale nel 2002. Loganeson, ad esempio, è l'ultimo elemento scoperto della tavola periodica e prende il nome dal fisico russo armeno vivente Yuri Oganessian, considerato il principale ricercatore al mondo quando si tratta di creare elementi super pesanti. Lascia like e iscriviti per nuovi contenuti.